Episodio numero 2 del podcast La finanza in soldoni. Quanto ci costa il lockdown post del 4 maggio 2020? Per il 2020 il Fondo Monetario Internazionale ha stimato una contrazione del 9,1% per l'economia italiana. Non troppo diverse le previsioni di Fitch Ratings che a fronte di un calo dell'8% allineato col governo italiano e di un rapporto debito PIL del 156% ha deciso di deglassare il debito italiano a livello BBB-. Leggi anche il post per chi suona la campana del rating. Ma la salute viene prima di tutto. Se il punto è salvare vite umane, che senso ha chiedersi quanto costa? Beh, in primo luogo, nella misura in cui non esistono pasti gratis e qualcuno il conto deve pagarlo, ha sempre senso chiedersi a quanto monta. Non fosse altro che per valutare in che modo far fronte alla spesa. In secondo luogo, è piuttosto complicato quantificare i benefici del lockdown, come evidenziato nel video allegato al post. E dopo un'attenta analisi, i detti benefici potrebbero rivelarsi inferiori alle aspettative. Un esempio utile a cui guardare è quello della Svezia, paese nel quale la gestione della pandemia viene regolata in base ad analisi continuative e approfondite della relazione tra misure di contenimento ed eccessi. Fino ad oggi, questo approccio ha portato all'adozione di misure circostanziate senza l'introduzione di un blocco generalizzato, cosiddetto lockdown, come avvenuto in molti altri paesi. Ad oggi, secondo quanto dichiarato pubblicamente da Anders Tegnell, che coordina questa attività, non si riscontrano differenze apprezzabili nel tasso di mortalità della popolazione rispetto agli altri paesi, ad esempio la vicina Norvegia, che hanno introdotto limitazioni più incisive. Se questo risultato dovesse rivelarsi corretto, metterebbe in discussione il rapporto di costi-benefici alla base delle scelte effettuate da molti paesi. Legge anche il post SPQS, sono pazzi questi svedesi? Le evidenze riscontrate in Svezia risultano anche coerenti con la tese di Michael Levitt, professore di biologia strutturale all'Università di Stanford e vincitore del premio Nobel per la chimica nel 2013. In un'intervista rilasciata a Freddy Sayers, lo scorso 2 maggio, lo scienziato racconta di aver osservato uno schema ricorrente nella diffusione della malattia che sembra ripetersi indipendentemente dagli interventi del governo. Dopo circa due settimane di crescita esponenziale dei casi, in seguito dei decessi, si verifica una sorta di rottura e la crescita inizia a rallentare. La curva diventa rapidamente subesponenziale. Levitt osserva che il numero totale di morti che stiamo vedendo, in luoghi così diversi come New York City, alcune parti d'Inghilterra, della Francia o dell'Italia settentrionale, sembrano tutti livellarsi ad una frazione molto simile della popolazione. Non sembra plausibile che in tutti questi casi si stia praticando lo stesso livello di distanziamento sociale. Un terzo e ultimo profilo da considerare in tema di costo di lockdown è che in effetti non esiste una dicotomia del tipo 0 vs 1. Non esiste lockdown pari a 0 perché il semplice annuncio dell'esistenza di una malattia induce le persone a prendere precauzioni e a limitare l'interazione sociale, anche in assenza di prescrizioni normative. Si vede dalle analisi di Google sul movimento delle persone anche nei paesi senza divieti. Non esiste neanche il lockdown al 100% perché anche nei paesi con restrizioni più incisive rimane sempre garantito il funzionamento delle attività essenziali come alimentari e sanità. Dunque è del tutto fuorviante la contrapposizione tra apertura, controchiusura e paesi con e senza lockdown. La domanda da porci in un mondo che funzionerà al 90% per un po', in un briefing dell'Economist di qualche giorno fa si spiega il perché, è come fare in modo che l'attività economica possa convivere con il virus assumendo una quantità di rischio accettabile e obiettivamente misurato. Con riferimento all'Italia, il recente downgrade da parte di Fitch costituisce un importante avvertimento. Il nostro paese subirà un contrappolpo maggiore in termini economici rispetto alla maggior parte dei paesi confrontabili, senza poter dire di aver ottenuto un numero di decessi significativamente inferiore agli altri. Il costo del lockdown risulta pertanto particolarmente significativo perché non è associato con benefici apprezzabili. Questo non vuol dire che avremmo dovuto ottenere tutto aperto, abbiamo detto che il lockdown pari a zero non esiste e non c'è neanche in Svezia, ma che dovremmo imparare a concentrarsi su misure realmente efficaci, ad esempio tutela degli anziani nell'RSA, rischio di contagio nelle strutture ospedarie che sono necessariamente parziali e circoscritte. Per concludere, il costo del lockdown è in parte necessario e non eliminabile, ma puoi in molti casi includere anche una componente che non comporta benefici apprezzabili e che dovrebbe essere al centro dell'attenzione del governo e di tutti i cittadini. Se vi piacciono i podcast, iscrivetevi anche al canale YouTube Massimo Famularo o all'account Twitter. Buona giornata.